Ciao, sono Giulia, ho 28 anni e vengo da Roma. Sono sempre stata attratta dal mondo delle risorse umane. Per tale motivo ho scelto il Master in Gestione e Sviluppo e Amministrazione delle Risorse Umane di Alma Laboris Business School. Grazie anche alle testimonianze e feedback positivi degli ex partecipanti. Le lezioni sono state interattive e dinamiche, con la possibilità di mettere in pratica ciò che ci è stato trasmesso dai docenti. Grazie al servizio di placement inizierò presto una nuova avventura in adeco, che spero vi permetterà di raggiungere presto i miei obiettivi di carriera.